Buonasera, benvenuti a tutti a questa nuova puntata del podcast della libreria Rotondi e questa sera abbiamo veramente il piacere di ospitare un amico, una persona che seguiamo e stimiamo da tempo, Marco Maculotti, non soltanto un saggista e uno studioso, ma mi parebbe da dire con un'espressione presa magari da altre generazioni, un agitatore culturale, nel senso che Marco è senza dubbio una delle figure più vivace e più prolifiche nell'ambito dello studio delle religioni, dell'antropologia, dell'esoterismo, del folklore e come manifestazione più frequente di questa sua grande attività Non possiamo non menzionare il sito Axis Mundi, sito estremamente interessante per chi ovviamente è appassionato di questi temi, ma secondo me che è anche una veste grafica molto elegante che non è una cosa diciamo frequente in determinati ambiti, devo dire questa attenzione, anche questa cura formale e oltre a gestire e a pubblicare spesso dei saggi molto interessanti su questo, che secondo me è uno dei siti culturali più interessanti in Italia e non solo, ha pubblicato sbagliati libri, adesso ne menzionerò soltanto alcuni, libri, saggi, pamflet, diciamo, Io sono legato particolarmente per motivi di interesse mio personale a Carcosa Svelata, che non è un libro che in Pernacolo Napoletano dice solo qualche cosa, ma è un libro dedicato diciamo a quel grande giacimento dei riferimenti culturali occulti presenti nella serie di True Detective. Ha poi pubblicato proprio per le Axis Mundi e Nizioni, quindi diciamo il sito culturale è diventato a sua volta una casa editrice, i saggi sull'angelo dell'abisso, Apollo, Avalon, il mito polare e l'apocalisse, e diciamo che pubblica frequentemente su diverse riviste di studi tradizionali. Questa sera presenteremo un suo nuovo volume, un volume in realtà collettaneo perché ospita anche altri autori, dedicato ai miti nordici per la casa editrice di Arcos. E' un bel libro, ancora deve uscire, ma noi abbiamo avuto la fortuna di poterle leggere in anticipo, è un tomo di quasi 500 pagine, Marco ha scritto gran parte dei saggi, ma appunto alcuni aspetti di questa complessa tradizione mitologica norena sono anche affrontati da altri autori. Quindi io chiederò a Marco come prima domanda come è nata l'ispirazione di questo progetto e se vuole descriverci brevemente la struttura di questo volume. Innanzitutto Adriano, grazie della presentazione, la stima ovviamente è reciproca, ci conosciamo da tempo, grazie anche a Michelangelo, a tutti voi della libreria Rotondi per l'invito, è un piacere essere qui con voi stasera. Allora, il libro miti nordici nasce appunto per la casa editrice di Arcos, del gruppo editoriale Rusconi, gruppo editoriale abbastanza famoso che tuttavia solo negli ultimi tempi si è concentrato appunto tramite questa branca, la di Arcos, su temi mitologici tradizionali. E' uscito di recente un libro sui vichinghi di Alberto Massaio che ho messo io contatto con l'editore e poi appunto hanno chiesto a me di fare da autore e curatore di questo appunto come dici tu pubblicazione collettanea miti nordici, e delle tradizioni dell'Europa settentrionale. Come hai già anticipato tu, metà di queste quasi 500 pagine sono redatte da me personalmente, ho trattato diverse, sia la categoria dei Vani, sia molte divinità della categoria degli Asi, poi diremmo meglio, e delle entità sovrannaturali e poi soprattutto un lungo saggio sul Ragnarok che è uno degli argomenti principali della tradizione norrena. Ora, spesso mi hanno chiesto in queste ultime settimane in cui ho annunciato appunto l'uscita del libro che dovrebbe uscire entro fine mese, in cosa si distingue questa pubblicazione dalle altre. Innanzitutto ricordo gli altri autori che sono Anselmo, Bandini, Bonfanti e Brandi, autori che hanno già trattato i temi norreni. Sono tutti autori che io ho scelto perché oltre a conoscere molto bene l'ambito della mitologia norrena, conoscono bene anche altri ambiti mitologici, quelli cosiddetti indoeuropei, cioè dello stesso gruppo linguistico, ma poi in realtà, come cerchiamo di dimostrare nel volume, sono anche un vero e proprio ecumene, è molto coerente tra tutte le varie mitologie, per esempio quella vedica, induista, quella greco-romana, quella celtica. Ecco, noi abbiamo cercato di mettere in rischio... Probabilmente per quello che mi riguarda l'aspetto anche più interessante del libro, questa comune visione archetipica volendo. Ecco, questo è un problema a mio parere delle pubblicazioni sui miti nordici, sulla tradizione nordica in Italia, nel senso che ne escono diverse, però da molti anni è difficile trovare un volume, un libro sull'argomento che vada oltre a raccontare i semplici miti norreni. Ecco, noi abbiamo cercato di fare questa operazione, cioè mettere in rischio, ovviamente raccontare i miti norreni, i principali dei del Pantheon, però anziché fare mini capitoli su ogni minima divinità, abbiamo cercato di scrivere dei saggi da 20, 30, 50, 60 pagine che appunto mettono in risalto questi parallelismi con le altre tradizioni, quindi quella appunto vedica, persiana, greco-romana, celtica, in modo da mostrare come ci sono determinate categorie archetipiche, mitiche, che noi ritroviamo in tutti questi Pantheon, in queste tradizioni culturali, non solo negli dei principali, ma anche per esempio nei culti domestici, poi vedremo meglio. Quindi entità magari del folklore che sono poi sopravvissute appunto nell'ambito, nel calderone del folklore, della superstizione poi solo negli ultimi due secoli, che però in realtà, se analizzate come si deve, ecco, tradiscono questa comunanza, un ambito mitologico che non è semplicemente quello norreno o germanico norreno, che è quello che di solito si mette in risalto. E a questo proposito ci siamo rifatti autori, oltre ovviamente a Gianna Chiesa e Snardi, che è la fonte principale, o Mario Polia, per esempio, altri autori noti che hanno studiato i miti nordici, anche autori che hanno studiato i miti nordici, ma nell'ambito più ampio indoeuropeo, quindi Mircegliade, George Dumezil, autori di questo genere. Infatti Dumezil aveva già colto questo legale, il pantheopetico e quello norreno. Ogni volta che si cita i grandi Mircegliade, io sottolineo sempre che, appunto, il genio sloci della libreria rotonda, lo dico a ogni presentazione, lo dirò per tutta la vita, è abitato da questi straordinari intellettuali, Lui Eli Mezzolla, Cristina Campo, Cugliano, insomma tutti frequentatori di questa libreria, di cui noi siamo, perlomeno quello che mi riguarda, indegni e umili, nemmeno, diciamo, umili seguaci, diciamo. Facciamo tutti quello che possiamo, siamo un nani sulle spalle di giganti, cerchiamo di... Letteralmente, appunto, parlando di queste figure di nani e di giganti, ti va dentro tu al pubblico che ci sta seguendo, appunto, queste categorie di entità soprannaturali di cui tu ti occupi in differenti capitoli? Ecco, sì, come ho detto abbiamo diviso l'opera in macro capitoli, che è appunto il capitolo sulle entità soprannaturali, e poi c'è anche il capitolo sulle norne, che è il più consistente di questo macro capitolo. Le entità soprannaturali nella tradizione norrena, probabilmente più che nelle tradizioni, per esempio, greche e romana, forse alla pari di quella celtica, sono particolarmente importanti, e secondo gli studiosi di tradizione nordica, risalgono alla fase più antica, storica, dell'occupazione della Scandinavia. Noi sappiamo che la Scandinavia viene occupata solo pochi millenni prima di Cristo, perché precedentemente la glaciazione non rendeva possibili insediamenti come nell'Europa meridionale o nell'Europa orientale. Quando noi andiamo ad analizzare queste tradizioni su queste entità soprannaturali, le più famose delle quali sono gli alfar, cioè gli elfi chiari, il vergar, che sono invece gli elfi scuri o gli ignomi, che dir si voglia, e poi abbiamo i giganti, gli otnur, e poi abbiamo ovviamente le norne, le disir, che poi vedremo, sono una categoria particolare di entità femminili. Ecco, noi ci rendiamo conto che, a differenza di quando studiamo il pantheon norreno vero e proprio, degli dei più elevati, sia che siano asi, sia che siano vani, queste entità soprannaturali presuppongono un culto domestico, per il più delle volte, è un culto che riguarda la famiglia e i clani, insomma. Gli elfi e le disir, appunto, sono i due capisaldi di questo culto domestico, ricordo un po' quello romano degli dei mani e gli dei lari, cioè appunto quegli spiriti tutelari della casa, dell'ambiente domestico e clanico. Vediamo che tutte le tradizioni che riguardano gli elfi e le disir sono connesse a tumuli e monumenti megalitici, quindi si parla di un'antichità veramente arcaica, che ovviamente ha dei parallelismi molto potenti con la tradizione celtica. Invece, i giganti è un tema veramente polietrico, perché ci sono nella tradizione norrena sia dei giganti primordiali, che, per esempio, Surtur, che è il gigante di fuoco che governa su Muspel, che è il primo regno che viene detto esistere nel cosmo, oppure Mimir, da cui Odino guadagna gran parte della sua sapienza sacra e occulta. Ecco, questi sono giganti primordiali, sono da tenere distinti dai giganti invece che poi diventano i troll del folclore nordico. Si possono paragonare forse ai titani della mitologia greca, cioè quegli dei più antichi degli dei Olimpi, anche se poi ci sono anche dei parallelismi con gli dei Vani, però soprattutto Cronos, questa figura veramente arcaica, come dio padre e capo dei titani, ha dei parallelismi con Surtur, anche poi etimologicamente Surtur-Saturno, Saturno come dio dell'età dell'oro all'inizio del ciclo. Quindi il tema dei giganti è molto complesso. Poi ci sono delle gigantesse che spesso hanno funzione nei miti di ierogamia della fertilità, quindi ci sono delle gigantesse come Scadi che viene corteggiata da Njord, oppure Gerder che viene corteggiata da Freyr, e questi miti tra una divinità vanica, quindi della fertilità, della terza funzione dumezziliana, e le gigantesse invece di questo genere sono appunto dei della fertilità fondamentalmente. Nertus in particolare è la versione femminile di Njord, che è il dio vano più antico, e noi sappiamo che Tacito, noi conosciamo questa dea germanica in realtà per la testimonianza di Tacito, e possiamo vedere come sia molto simile nella ritualità al culto della Diana Nemorensis, del lago di Nimi, con questa processione, con questo carro navale, con l'effigie linea della dea che viene immersa nell'acqua. Queste entità, quindi, possiamo dire che gli dei vani facciano come da passaggio, da staffetta, tra queste antiche entità sovranaturali, molto arcaiche, che appunto il loro culto riguarda una fase più arcaica dei culti norreni, e invece gli dei asi, che sono quelli più cosmici, ma volendo anche più individuali. Vedremo poi meglio Odino, una divinità che ha a che fare in maniera particolare con l'individualità della persona che lo adora. Invece i vani sono divinità della fertilità, quindi soprattutto Freya e Freyr, che sono i gemelli divini, diciamo, oppure appunto Niold e Nertus. In realtà però, come hanno sostenuto molti studiosi, non bisogna vedere almeno le due ultime fasi, quella dei vani e degli asi, come una prima dell'altra, perché in realtà, come dimostra Dumezil, questi dei di entrambe le fazioni si incanalano perfettamente nelle famose tre funzioni, quindi la prima funzione è quella sacerdotale, che è quella mistica, diciamo così, che è quella di Odino, oppure di Emda, anche in misura minore, oppure di Loki, anche se in un senso più oscuro. Poi la seconda funzione, che è quella invece guerresca, e qui abbiamo Tyr e Thor, che sono due lati della funzione appunto della guerra, che Dumezil ha paragonato, per esempio, a Mitra Varuna, anche se in realtà, dei parallelismi anche con Odino, perché Odino è il sovrano terribile, come lo è anche Varuna, Thor invece sarebbe simile a Indra, dio del tuono, anche qui, e per esempio un dio cosmico, è legato anche a una funzione della fertilità, perché Thor difende Midgard dall'attacco delle forze oscure, dei giganti, e invece la terza funzione, che appunto è quella della fertilità, quindi tutti gli dei vani, che abbiamo già detto, Freyr, Freyanjord, e Nertus, e poi tutti gli altri minori, quindi ecco, alcuni autori nell'ottocento, inizio novecento, hanno ipotizzato che il culto dei vani fosse precedente, e ci fosse questa mitica guerra cosmica, che c'è stata tra Asi e vani, prima appunto della fondazione di Asgard, come la conosciamo nel mito norreno, avrebbe ricalcato, diciamo così, degli scontri storici tra popolazioni di etnie differenti, o di ecumeni culturali differenti, ecco, ma non sembra questo il caso, perché in realtà sia come etimologia, sia come concetti, vediamo che Asi e vani sono quelle due categorie di divinità, che noi ritroviamo appunto anche in India, con Deva e Asura, oppure anche ovviamente in Persia, gli Olimpi, i Titani, dei Greci, e in qualche modo si compenetrano le funzioni di queste divinità, quindi è probabile che sì, facessero forse un po' le divinità di caste differenti, se così vogliamo dire, o di clan differenti, però secondo me, secondo anche molti studiosi, tra cui il Dumezil, c'è sempre un ambito indoeuropeo, ecco, di tutte queste divinità del Pantheon, sia che siano Asi, sia che siano vani. È sempre il grave limite, secondo me, scusate, di una prospettiva storicistica, perché nel momento in cui tu vuoi storicizzare qualcosa, che per definizione vuole descrivere una dimensione metastorica, necessariamente, è un approccio, se non fallimentare, è quantomeno limitato. Abbiamo parlato di Odino, e tu dedichi un ampio saggio in apertura quasi, diciamo, alla relazione che ha Odino con la sua ricerca della sapienza occulta. Puoi parlarcene brevemente? Assolutamente, Odino è la figura più importante del Pantheon Norreno, se non altro per come lo conosciamo noi, dei testi che ci sono giunti, che ovviamente questi testi ci sono giunti in età cristiana, il principale autore è Snorri, autore sia dell'Edda Norrena, l'Edda in prosa e l'Edda poetica, e Odino ovviamente ha diversi lati, Odino è la divinità più poledrica probabilmente del Pantheon Norreno, però secondo me il punto più importante del suo culto e della sua tradizione è quello appunto, il suo legame con la sapienza sacra, e ovviamente noi possiamo capire questa sua relazione attraverso vari miti, per esempio il mito in cui Odino sacrifica uno dei suoi occhi, alla fonte di Mimir, questo gigante primordiale per cui bevendo dalla fonte di Mimir Odino ottiene la sapienza sacra, oppure l'altro mito importantissimo è quello per cui Odino si lega, si appende, ma si appende e non si impicca perché è diverso, si appende a testa in giù all'Igdrasil, l'Igdrasil è il frassino sacro, il frassino cosmico che ovviamente ricalca il simbolo dell'axis mundi, dell'asse del mondo, che spesso viene visto come un albero cosmico appunto, il cui fusto passa attraverso tutti i mondi della manifestazione cosmica, ecco, se in alcune tradizioni, soprattutto quelle sciamaniche centroasiatiche, i mondi di questo, per i quali passa questo albero cosmico, sono tre fondamentalmente, quello superno, quello medio e mediano, e quello sotterraneo o octonio, nella tradizione norena invece ne abbiamo nove, e questo albero cosmico è diviso, ricordo un po' l'albero della cabala, possiamo dirlo, anche se magari qualcuno ha il sole e il naso, ma è quella comunque l'impostazione mitica di questo cosmo indoeuropeo, norreno, e Odino è appunto, perché conquista la sapienza sacra? Perché appendendosi allegoricamente, diciamo così, su questo albero cosmico, è come se sacrificasse la sua individualità a una potenza divina più alta, infatti quando si parla di Odino in realtà, come hanno dimostrato autori anche novecenteschi come Guido Von List, si vede che si menziona vari Odini, c'è un Odino primordiale che appunto compie un'antropogenesi umana, poi c'è un Odino appunto legato alla guerra, legato alla schiera selvaggia, i berserker, ci sono vari Odini. E' quello diciamo più superficialmente conosciuto, no? Sì, quello che adotta delle tecniche magiche in battaglia, e questo è molto simile al Varuna, induista, vedico, e anche al Lug celtico, che anche lui quando attacca in battaglia chiude un occhio e riesce a fare delle magie per sbaragliare gli eserciti diversi, ma questo mito, secondo cui Odino appunto appendendosi per nove giorni e nove notti, questo appunto, il nove è un numero che ritorna tantissimo nella tradizione nordica, e secondo me è molto sciamanico come numero, perché il nove ritorna sempre nelle tradizioni sciamaniche, soprattutto centro-asiatiche, da qui appunto chi ha voluto vedere un'influenza anche geografica da quell'area, per quanto riguarda la tradizione nordica, e Odino con questo autosacrificio conquista la sapienza delle rune. Le rune, ecco, sono quei geroglifici, quei simboli, attraverso cui Odino scopre come è fatto il cosmo, come è fatta la creazione di tutti i mondi, quindi sono simboli su cui meditare, su cui appunto nel loro aspetto così di simbolo, lasciano, come posso dire, nascondono dei significati a più livelli, ecco, e appunto l'autosacrificio sull'Igdrasil, il viaggio di Odino nella fonte di Mimir, e poi c'è il terzo mito della sapienza sacra di Odino, cioè quello dell'idromele, il furto dell'idromele, questi sono i tre miti con cui Odino guadagna la sapienza sacra. Quello dell'idromele è particolarmente interessante perché noi lo troviamo identico nella tradizione vedica, induista, dove c'è Indra in realtà, non Varuna, ma Indra, che ruba il Soma trasformandosi in Aquila, oppure mandando un suo aiutante, che è appunto un'aquila, tipo Garuda, poi nell'induismo Vishnuita, e Odino nel mito invece si trasforma proprio in Aquila per rubare l'idromele e poi fuggire. Ma oltre che trasformarsi in Aquila, prima si trasforma in serpente per accedere al mondo di sotto e rubarlo ai giganti. Ecco, l'idromele è una sorta di pozione magica, possiamo dire che ha appunto dei parallelismi molto potenti con il Soma degli induisti, oppure con l'Aoma dei persiani, e ancora con l'Ambrosia dei greci. Insomma, è questa bevanda sacra che fa guadagnare a Odino la cosiddetta memoria. Ecco, questo è un altro punto molto importante, perché quando si parla di memoria nella tradizione germanico-norrena non si intende semplicemente ricordarsi qualcosa che è accaduto, ma la memoria vuol dire proprio una conoscenza che va prima dall'origine, è una conoscenza che retrocede fino all'origine ed è molto simile al discorso ellenico greco della mnemosine. La fonte di mnemosine è la fonte di Mimir, è la stessa identica cosa. Quindi come l'iniziato orfico appunto guadagna l'immortalità e esce dal ciclo di rinascite bevendo dalla fonte di mnemosine, ugualmente Odino bevendo dalla fonte del gigante Mimir, che d'altronde vuol dire appunto fonte della memoria, i Mimir appunto una memoria personalizzata, ecco, così guadagna la conoscenza sacra e riesce ad andare oltre tutti questi ostacoli nei vari mondi. E un'ultima cosa da dire, che questa gita, questo viaggio di Odino in questa fonte di Mimir trova ovviamente dei parallelismi con varie altre tradizioni, questa fonte dell'acqua della vita eterna, la fonte dell'immortalità, noi la troviamo non solo in tutto l'ambito indoeuropeo ma anche in ambiti extra indoeuropei e particolarmente interessante come poi nell'età, diciamo così, nell'età cristiana, dal tradizionismo secolo in poi, nella tradizione poetica germanica tedesca, con il romanticismo poi, abbiamo la Mimne, la Mimne è appunto quella memoria di cui parla pure Dante che gli conferisce Beatrice, questa memoria sacra dell'origine... Non a caso Beatrice è un nove, scusate? Nella vita nuova, nella vita nuova Beatrice è un nove. Ecco, qui c'è invece Beatrice in Dante che fa da figura, che gli consegna la Mimne, cioè questa memoria, conoscenza sacra, che retrocede a prima delle origini e in generale poi nella poesia germanica fino ai romantici, c'è sempre questa figura femminile, in realtà ricalca molto la figura antica della Valkyria, o anche della Filgia, sono due figure della tradizione norena, ecco, della Filgia, plurale Filgiur, ne parlo nel capitolo sulle identità soprannaturali, perché sono connesse alle Disir, queste sorte di elfi femmine, però la Filgia è legata a una stirpe, e quindi è legata a un individuo tramite la sua stirpe, quindi tutte quelle miti, leggende anche del folklore, sull'anima esterna, sul doppio, è legata a questa idea della Filgia, è come una specie di anima esterna che poi può prendere forma animale, può prendere forma di donna, di amante sovrannaturale, anche questo ha carattere molto sciamanici, come ha dimostrato Elemir Zolla, ricordiamo, La sposa sovrannaturale, grande libro di Zolla. Cosa invisibile, no? Che meraviglia, ma a chiudere ascolterei per voi, guarda, veramente. Poi se qualcuno strascia il naso, a Roma si dice, fa due fatiche, poi gli iniziati sanno a cosa mi riferisco. Prima di arrivare a parlare appunto di questo grande evento polingenetico del Ragnarok. Volevo chiederti brevemente di parlare della divinità probabilmente più sfuggente, più inafferabile, più oscura, per alcuni aspetti forse anche più fascinosa, cioè Loki. Loki è veramente... Loki ci divertiamo. È una figura veramente peculiare, perché... Allora, se nelle tradizioni europee ci sono delle figure simili a Loki, però non arrivano così oltre dove arriva Loki. Per trovare delle figure veramente simili a Loki dobbiamo andare appunto in tradizioni animistiche o sciamaniche come quella dei nativi americani. Ha scritto... Qualcuno di voi sicuramente conoscerà l'opera collettanea scritta da Jung che regne, se non ricordo male, sul trickster. Il breccone divino. Il brecone divino, bravissimo. Ecco, Loki ha questa figura, il breccone divino, cioè il trickster. È quella figura che è molto duplice nella sua fenomenologia, sia positiva che negativa. È lui, per esempio, che mette sempre nei guai gli altri dei di Asgard, gli Asi soprattutto, Dino, Thor e i suoi compagni, perché in realtà lui è un Asi, però nasce da giganti, come tra l'altro Dino. E tra l'altro poi da Loki nasceranno, e poi ne parleremo meglio dopo, con Ragnarok, nasceranno quelle figure come Migdarsomra, cioè il serpente di Midgar, oppure il lupo Fenrir, e la progenie di Ati e Skoll, che poi divoreranno il sole e la luna alla fine del ciclo. Però ecco, Loki, oltre a essere famoso per questi miti negativi, diciamo così, è anche famoso perché spesso è lui a risolvere i guai che lui stesso causa. Quindi è un po', come Gianna Chiesi e Snardi ha dimostrato, è quel tipo di veleno che, secondo le tradizioni antiche in europee, era sia una medicina che è appunto un veleno, il cosiddetto farmaco. Il farmaco dei greci, esattamente. Per esempio, ci sono vari miti di Loki che, per esempio, rapisce Idun, che è la dea che possiede le mele dell'eterna giovinezza. Queste mele è appunto un altro topos tipicamente indoeuropeo che soprattutto tra i Celti noi troviamo, ne ho parlato ampiamente nell'Angelo dell'Abisto, ecco lo mostro brevemente, per tutto il riguardo di Avalon come isola delle mele, dell'immortalità, dell'eterna giovinezza. E Loki rapisce Idun e allora gli dei iniziano a invecchiare, non hanno più queste mele che li rendono immortali. Però è lo stesso Loki che in qualche modo gliele riporta indietro dopo averli dati ai giganti. Lo stesso vale col furto del monile di Freya o con il furto delle trecce d'oro di Sif, moglie di Thor. Sono tutti, insomma, dei simboli che appartengono agli dei. Ecco, le mele sacre e i capelli d'oro di Sif. Sono tutti questi concetti che Loki in qualche modo sottrae agli dei, però poi è lui che con i suoi stratagemmi riesce a riaverli indietro dai nani e dai giganti a cui li ha dati. Ma la figura di Loki è soprattutto importante nella sua, ecco, nel suo lato più oscuro perché è lui che con uno stratagemma fa uccidere Baldr. Baldr è l'asi più... che ha una figura bellissima. Eh, sì, sì, che ha molti parallelismi con altre tradizioni come Attis, come Adone, e questo dio che... il dio sacrificato che muore per poi rinascere alla fine del ciclo. E ecco, Loki con uno stratagemma lo fa uccidere dal fratello che è cieco e in qualche modo viene colpito da questo che gli causa la morte. Allora Baldr muore prematuramente e scende a Del, scende in questo regno oscuro e allora gli asi si vendicano, trovano Loki, lo incatenano in una grotta sotterranea, gli fanno... lo mettono in una posizione tale che una goccia di acqua ogni... ogni secondo, ogni qualche secondo gli cade in testa e lo scavi sempre più questa tortura e sua moglie gli toglie queste gocce insomma per togliergli la tortura, togliergli questa esperienza negativa. Però è molto importante questo mito perché molti hanno visto una posizione simile a quella di Prometeo che viene legato con il... C'è anche il serpente nel mito di Loki, c'è un serpente che gli sprizza addosso il suo veleno come anche in altri miti. Esatto, esatto. E poi anche... Interessante invece appunto la luce però è una luce in qualche modo anche appunto luciferina se vogliamo oscura. Ecco, Loki infatti viene sempre legato etimologicamente a un fuoco che però è distruttore è un fuoco che causa dei danni a differenza di Emdar che invece è collegato al fuoco cosmico che mette in ordine il cosmo. Questo è il motivo per cui alla fine del ciclo cosmico nel Ragnarok Loki si sconterà con Emdar perché poi adesso magari vedremo meglio il Ragnarok è fondato su alcuni scontri dicotomici tra gli dèi dell'ordine diciamo così e gli dèi invece oscuri che appunto sono Loki i suoi figli e poi Surtr che è quello famoso gigante primordiale che abbiamo nominato prima. Come in certi quadri dei manieristi in cui la luce viene dal basso perché è il fuoco infernale. Come nei migliori talk show di La Sette abbiamo una domanda in diretta dal pubblico te la pongo brevemente prima di parlare del Ragnarok ci scrive Emanuela dicendo penso che in questo momento di grande energia sia interessante il panorama sul femminile non necessariamente donna c'è bisogno del filtro femminino esiste una figura particolare per questo? brevemente ecco sì giusto volevo infatti anche fare due parole su Freya in quanto è la divinità femminile del Panteon Norreno più particolare ecco abbiamo già detto che altre divinità femminili hanno un ruolo simbolico legato solo unicamente alla fertilità abbiamo detto per esempio Gerder Sif queste figure appunto legate alla fertilità al grano ma Freya è particolare perché pur appartenendo agli dei vani quindi quelli della fertilità è veramente peculiare perché nella figura di Freya si uniscono dei temi che in altre mitologie riguardano diverse figure divine femminili ne dico solo qualcuna così in passante innanzitutto Freya è la dea delle streghe è connesso a un tipo di magia sia stregonesca quindi la cosiddetta Seidr che alcuni hanno visto in relazione alla magia e allo sciamanesimo dei finni una popolazione appunto di origine non indoeuropea che adesso noi ritroviamo ancora in Finlandia anche se ovviamente in misura molto minore che nei secoli pre cristiani ecco e questa magia di Freya è particolare perché ha a che fare sia con quella stregoneria necromantica diciamo così quindi richiamare gli spiriti dei morti tra l'altro poi Freya lo insegna Odino questo tipo di magia Odino e Loki sono le uniche divinità degli asiche a cui Freya insegna questo tipo di magia prettamente stregonesca e femminile ma oltre che la dea delle streghe Freya è anche questa magia di Freya ha un lato afroditico ovviamente Freya è la dea dell'amore e la magia appunto che la riguarda è la magia dei vincoli è la magia dei legami quindi quella magia appunto per legare gli incantesimi per legare persone in una relazione amorosa sessuale sentimentale è molto particolare la figura di Freya perché se Odino è la figura maschile che ha a che fare con la magia molto più di tutte le altre dico di rimando Freya nell'ambito femminile è praticamente l'unica che ha questi poteri così diversi dal resto del pantheon femminile e ecco Freya è anche importante perché quando c'è questa famosa guerra cosmica tra le due fazioni si dice che questa famosa strega il cui nome vuol dire ebrezza dell'oro è un'emanazione di Freya e causa dei danni ad Asgard prima che ci sia questa pace tra gli dèi è molto curioso questo perché sembra che i norreni vedessero ecco un elemento anche negativo nell'oro non solo l'età dell'oro su cui governava Freya ma anche l'oro come appunto un'ebrezza malsana che porta il cosmo a degenerare e quindi solo con un patto poi tra gli ase e i vani si riesce a ritrovare quell'ordine perduto e questo oro che all'inizio era appunto visto come una strega maligna che portava il male ad Asgard viene assorbito insomma nella visione mitica e quindi Freya poi diventa addirittura moglie di Odin tramite il nome Frigga ecco Frigga e Freya questa è un'altra questione interessante perché molti autori novecenteschi hanno visto due figure differenti e io invece credo che sia la stessa figura identica perché andiamo ad analizzare a parte già l'etimologia Frigga e Freya e la signora in entrambi i casi quindi come Freya è il signore come Bal tra l'altro è quell'etimologia lì che vuol dire il signore della signora Freya è la stessa medesima cosa e inoltre come Odino porta i guerrieri gli eroi morti in battaglia nella Valhalla che è il suo paradiso ecco Freya prende l'altra metà dei morti e la porta nel suo paradiso nel suo mondo ultraterreno questo è un argomento anche complesso perché da una parte la mette in relazione con le Valchirie come se Freya fosse la dea delle Valchirie e delle Filjur anche secondo altri ma poi altri invece mettono in risalto come oltre che questa metà parte dei guerrieri morti in battaglia che appunto da connettere alle Valchirie Freya prende ma Freya prende anche le donne morte di parto quindi in questo senso la donna che muore durante il parto viene considerata eroica tanto come un uomo che muore sul campo di battaglia quindi in un certo senso dopo essere stata inserita nel pantheon degli Asi anche pur rimanendo una dea dei Vani vediamo che Freya prende anche questo lato di parte femminile di Odino di no sulla magia che sul fatto dei guerrieri morti in battaglia del mondo ultraterreno da qui possiamo dire che ci sono anche come nel caso di Odino varie Freya a seconda del anche qui non si parla di epoca storica nel mito si parla insomma di diverse mitologie forse che si uniscono di diverse tribuli diverse ecumeni culturali che però poi abbiamo scoperto etimologicamente essere tutti riconducibili all'ambito indoeuropeo così come nell'ambito induista o greco ci sono o celtico ci sono varie le due categorie divine quelli più uranici e cosmici quelli più invece toni legati alla fertita ugualmente troviamo la stessa cosa nel mondo norreno allora guarda abbiamo un quarto d'ora quindi facciamo in modo che non sia un brutto quarto d'ora né già mai un quarto d'ora accademico e dobbiamo parlare di due temi l'abbiamo annunciato uno in realtà l'abbiamo annunciato che è il Ragnarok però io ti vorrei chiedere un tour de force straordinario di fare una panoramica su tre quei siti uno che in realtà viene dal pubblico da Barbara che ci chiede cosa ne pensi dell'edda poetica rispetto a quella in prosa poi se puoi parlare appunto una panoramica su questa straordinaria immagine del Ragnarok e poi in conclusione come in particolare Ragnarok ma in generale tutta la metodologia norena abbia influenzato la cultura contemporanea anche nei suoi aspetti più pop alcuni dei dei giovani tra il pubblico probabilmente giovani anche meno giovani in realtà avranno riconosciuto magari questi nomi tutto ciò che hai detto dei nomi che magari hanno letto nei fumetti o hanno visto il cinema ma ho anche dico questa cosa per i filologi di rap anche in alcune canzoni di Eminem prego ok allora sul il discorso sull'edda in prosa e l'edda poetica è molto complicato cercherò di essere il meno accademico possibile insomma di essere anche il più rapido possibile sono entrambe delle fonti che vengono considerate vanno di pari passo ecco infatti spesso nell'edda in prosa vengono citati dei passaggi dell'edda poetica soprattutto della voluxa della voluspa la voluspa è la cosiddetta profezia della veggente cioè questa veggente questa indovina che Odino appunto raggiunge in questo mito e con l'inganno fingendosi un viandante non presentandosi come Odino le storce diciamo così i segreti i misteri del cosmo e del e del suo funzionamento ma anche appunto questa visione futura del Ragnarok della fine del cosmo ora se noi vogliamo trovare una differenza veramente visibile a tutti tra l'edda poetica e quella in prosa è che l'edda in prosa ha questo prologo che gli studiosi hanno guardato e io sono d'accordo con loro con molto dubbio perché uno ha dei temi mitologici del tutto diversi dal resto dell'edda sia in prosa che in poetica soprattutto del Ghir Faginin ma che è il libro principale dell'edda in prosa ma soprattutto ha una impronta evemeristica quindi si pensa che Snorri ma non è neanche sicuro che l'abbia scritto Snorri in realtà questo prologo abbia scritto questo prologo appunto all'edda in prosa per venire incontro alla cultura classica quindi ci sono dei rimandi alla guerra di Troia si parla degli dei asi quindi Odino Thor Tyr che vengono appunto da Troia dopo la guerra scappando dalla loro terra per insediarsi nel nord Europa e poi secondo me è da questo prologo che molti hanno cercato di analizzare tutto il mito norreno semplicemente storicamente quindi evemeristicamente come dicevi in realtà questo prologo è molto dubbio che l'abbia scritto Snorri e se l'abbia scritto Snorri l'ha scritto per riallacciarsi alla tradizione classica tramite quella poi quella cristiana perché noi sappiamo che Snorri in realtà si dice almeno noi sappiamo questo che è convertito a cristianesimo quindi ecco a parte il prologo dell'Ede in prosa secondo me il resto soprattutto il Gilfaggini che ho già nominato va proprio di pari passo a quella poetica per il prologo ecco lascio semplicemente al lettore o a chi poi io su prologo in realtà non lo tratto proprio lo tratta Bonfanti nel suo capitolo su Asi e Vani mettendo appunto in risalto questa particolarità del prologo rispetto al resto dell'opera però ecco un argomento molto spinoso anche a partire appunto dall'autore che non si sa se sia Snorri o altri poi mi avevi chiesto sul se vuoi fare una breve sintesi con questa quota finale sull'influenza che ha avuto assolutamente al pubblico al grande pubblico tramite la serie TV Vikings in Vikings per esempio ci sono queste figure come Ragnar Lodbrok che in realtà è un vichingo realmente esistito che è un po' una specie di doppio umano di Odino poi c'è Floki che è un doppio umano di Loki ecco questa scelta è particolare poi ci sono anche altre serie come quella di Nel Gaiman come si chiama adesso non mi ricordo anche qui c'è Odin però insomma qua diventa sì bravo però a mio parere questo diventa una cosa un po' troppo commerciale che va oltre alla tradizione norena la interpretazione Gaiman è dotto quanto astuto diciamo anche la Dea 2 c'è anche il film di Eggers che è molto interessante che è The Northman quello è fatto bene ha delle scene molto belle soprattutto quelle in cui si vede la Valhalla e l'accesso alla Valhalla quello è molto interessante oppure c'è anche mi ricordo quel film Valhalla Rising che quello è un film buono per trattazione ecco però il discorso è che allora non si può studiare la tradizione norena semplicemente guardando questi prodotti si può si accompagnare alle letture per entrare un po' è come studiare Romero guardando Taroi eh sì però guarda sono proprio spesso anche le figure divine sono molto serotipate ecco non abbiamo questa la tradizione norena è una tradizione veramente a tutto tondo ecco le divinità che noi troviamo sono spesso a tutto tondo sono poliedriche non sono semplicemente divinità di una singola funzione ma ne hanno diverse e quindi riallassiamoci allora al Ragnarok abbiamo detto di Loki che ha questa duplicità di farmaco nel senso di veleno e medicina però ecco il Ragnarok come abbiamo detto la fine del ciclo cosmico crepuscolo degli dei la traduzione di Ragnarok viene portato appunto da Loki e dai suoi figli i figli sono il lupo Fenrir che è questo lupo gigantesco che viene incatenato dagli dei soprattutto da Tyr che appunto sacrifica la sua mano in un mito che Dumezilla ha voluto vedere simile a quello di Muzio Shevola per esempio o anche altri miti hinduisti e persiani comunque ecco questo lupo gigantesco che è il simbolo delle forze del caos viene trattenuto fino a che alla fine non rompe le catene e al tempo stesso rompono le catene anche gli altri figli di Loki cioè il serpente di Midgard e la stessa El che è questa divinità femminile del mondo dei morti risale appunto attacca Midgard e poi Asgard su questa nave piena di Dagrash di cadavere spiriti cadavere diciamo così e poi c'è questa figura surtre questo gigante primordiale del fuoco che in realtà è il vero la via spia secondo me che fa capire come questo mito escatologico e apocalittico catastrofico non reno si possa mettere in relazione con tutti gli altri miti indoeuropei di fine del ciclo il fuoco distruttore ha sempre un'importanza grandissima io nell'angelo dell'abisso analizzato come nella tradizione greca è Apollo che viene considerato il fuoco cosmico che alla fine del ciclo distruggerà tutta la manifestazione cosmica per riportare alla fonte e surtre ha un po' questo ruolo abbiamo già accennato prima agli scontri dicotomici durante il Ragnarok quindi abbiamo degli dei e dei demoni diciamo così che si scontano a seconda delle loro caratteristiche funzionali Odino con Fenrir che è appunto questo lupo perché Odino è legato al lupo e il lupo è un'epifania una zoofania di Odino e invece poi ci sono altri dei tipo Thor con i serpenti di Midgard e anche questo è legato alla funzione di Thor connessa al fulmine alla pioggia e il serpente a sua volta è il simbolismo acquatico poi abbiamo Freire appunto contro Surtra Freire è considerato il dio dell'età dell'oro e il capostipide dei sovrani degli svedesi e in questo Surtra e Freire sono io ti paragono nella tradizione ellenica e romana al Saturno cioè Saturno nella tradizione latina è sia il dio dell'età dell'oro legato all'agricoltura alla terza funzione e capostipide dei sovrani e invece dall'altra parte però quando viene detronizzato da Zeus Saturno diventa un demone della distruzione Cronos è il tempo che tutto divora e anche qui Surtra e Freire sono come le due realità perché Surtra è il ciò che è vero ciò che esiste diciamo no? Sì assolutamente quello che esiste all'inizio del ciclo e Surtra si dice che all'inizio del cosmo esisteva solo Muspel questo regno di solo fuoco però viene destritto come un regno beato in realtà non come un inferno e Surtra quindi ecco io qua faccio un discorso molto particolare nel libro che cerco di rassumere in poche parole c'è chi come Hans Orbiger nel novecento ha voluto vedere tutta la tradizione mitica norrena soprattutto il Rognarok fondato su questa dicotomia fuoco e ghiaccio e poi ha voluto analizzare questo tipo di miti cercando come dire di spiegare il corso reale dell'universo dallo sconto di questi due elementi secondo me è un po' più complicata la storia nel senso che Surtra in questa sua figura primordiale si può vedere come una specie di fuoco cosmico che all'inizio è libero poi viene incastrato bloccato nel ghiaccio quindi in questo senso ghiaccio e fuoco come sappiamo viene detto nei testi norreni che c'era il regno di Musper che è appunto il regno del fuoco e poi c'era il regno dei giganti di ghiaccio Neiferm e questi due mondi sono i primi che vengono in esistenza quindi è come se il fuoco cosmico venisse bloccato intrappolato in questo ghiaccio che poi noi possiamo vedere come un elemento della manifestazione cosmica cioè è questo fuoco cosmico che viene intrappolato e da lì nascono tutte le divinità tutte le figure tutti i nove mondi e quindi alla fine del ciclo cosmico cosa vuol dire che Surtra ritornerà e si sconterà con gli dèi e porterà il mondo in un olocausto definitivo da cui però rinascerà un nuovo ciclo con una nuova umanità una nuova coppia divina e degli nuovi dèi che sono anche qui delle emanazioni degli dèi precedenti vuol dire appunto che questo fuoco che è rimasto intrappolato per tutto il ciclo cosmico ritornerà alla fonte originale quindi è come se il ghiaccio cioè quei legami che l'hanno tenuto bloccato intrappolato per tutta la manifestazione cosmica si sciogliesse e allora qui noi vediamo tutto il venir meno appunto di questi legami per esempio il serpente di Midgard che esce dai dei suoi confini dove è stato relegato Fenrir che si libera viene detto in maniera simile poi all'apocalisse cristiana che le stelle il sole la luna iniziano a vagare per conto proprio poi il cielo si accartoccia c'è un'immagine molto simile a quella dell'apocalisse e anche degli oracoli sibillini perché questo è un altro punto che io metto in risalto nel capitolo su Ragnarok che già avevo messo in risalto nell'angelo dell'abisso vale a dire che la profezia della veggente Voluspa è uguale a oracolo sibillino come significato perché la sibilla romana insomma italica è la veggente è la volva norena e quindi Voluspa e oracolo sibillino è lo stesso significato e se noi andiamo a studiare gli oracoli sibillini che è un testo ovviamente apocalittico che poi ovviamente a noi ci è giunto con delle interpolazioni cristiane ed ebraiche molto potenti però vediamo che la visione cosmica che c'è di questa fine del ciclo inizio del ciclo successivo è tipicamente indoeuropea sia quella dell'apocalisse sia quella degli oracoli sibillini ma anche quella del Ragnarok ecco molto punti in comune soprattutto con la tradizione induista del Kali Yugo visto che avete presentato esattamente con Alessandro Orlande Orlande esatto e quindi se noi andiamo a leggere i Purana il Kalki Purana e il soprattutto il Kalki Purana poi anche il Vishnu Purana e altri vediamo come ci sono delle descrizioni di questa età del si va oltre il mero dualismo ecco ci sono dei simboli che hanno a che fare sia con divinità della luce cosmiche uraniche ma anche con la catastrofe finale ecco questo per dire in pochi termini in poche parole come molti mettono nel risalto il lato oscuro sinistro pessimista della tradizione norrena e questo può essere vero in parte però in realtà tutta questa visione apocalittica ci porta verso un'escatologia cioè dall'età dell'oscura dei lupi eccetera nasce poi la nuova età dell'oro con un cosmo rifatto nuovo una terra una nuova coppia di umanità primordiale nuovi dei è sempre il mito dell'eterno ritorno che poi viene ripreso da Nice chiaramente ma infatti su questa trasversalità diciamo tu giustamente hai scritto molto su Apollo e come Apollo appunto in un certo senso sappiamo che in realtà Daniel Luma non solo abbastanza intuitiva l'accostamento Dioniso Shiva però in realtà Apollo ha questa funzione ascatologica più simile a quella di Shiva in realtà assolutamente sì 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 infatti sì è quella funzione della è affascinante questa inversione archetipica come Surtra è quel fuoco distruttore che appunto alla fine del ciclo distruggerà tutta la manifestazione cosmica però appunto come dice Komaraswami nel famoso la dottrina del sacrificio dice sì Shiva è il dio del fuoco dei campi crematori ma cos'è che distrugge questo fuoco distrugge il corpo distrugge gli elementi più bassi dell'anima animici per permettere poi una rinascita su un piano più elevato ecco anche anche l'inquadramento della distruzione del ciclo cosmico e questo secondo me è il punto più interessante non deve essere visto come qualcosa di satanico di demoniaco queste divinità come Shiva appunto come Apollo che nell'apocalisse di Giovanni viene menzionato come Apollion appunto l'angelo dell'abisso ma anche appunto come Surtra è chiaro che abbiano una certa un certo lato insomma così oscuro perché appunto sono legate alla distruzione totale ma d'altra parte questa distruzione è proprio una nuova rinascita chiaramente sì sì ma infatti appunto nella cappella Sistina Michelangelo dipinge i profeti del Vecchio Testamento accanto alle Sibille di Esie di Esilla Solve Seculum in Favilla Teste David cum Sibilla è presente com'è il Cristo della cappella Sistina è che è appunto l'Apollo non ha la barba è un Apollo più che un Cristo è proprio l'Apollo di Belvedere è interessante sì sì è il Museo Vaticano appunto c'è tutto il percorso dal cortito ottagono che porta alla cappella Sistina in cui ci sono tutte anche il torso del Belvedere in realtà il corpo del Cristo che appunto facendo storcere il naso a molti ha una funzione simile a quella di Scicalchi dal punto di vista simbolico perché Cristo è che testimonia il giudizio universale non è altro che quello fammi dire anche due parole su Emdar prima di concludere perché in realtà ho già messo in luce come la figura di Odino abbia molto in relazione con quella di Apollo sia dagli animali che gli sono sacri come il lupo il corvo questo è particolare il tipo di magia della preveggenza della come dire della mania di di essere posseduti della divinità e riuscire a vedere nel nel futuro nel passato però in realtà nel Pantano Reno è Emdar quello che è più simile ad Apollo perché innanzitutto è legato all'asse del mondo è legato al punto più alto di quell'albero cosmico che abbiamo menzionato prima ed è la sentinella degli dei è considerato il dio più bianco del Pantano ecco e questo colore va legato poi al ponte arcobaleno di Bifrost di cui lui è la sentinella che unisce il mondo degli uomini Midgard a quello degli dei Asgard ora qui c'è un ragionamento simbolico che si può capire solo se si studia dalle altre tradizioni europee cioè il bianco in relazione ai sette colori dell'arcobaleno è come se fosse il bianco l'essenza primordiale da cui i sette colori dell'arcobaleno come le note musicali o come i mondi poi le note dell'armonia cosmica tutto quanto nascono quindi c'è infatti anche Apollo era denominato il dio settuplice cioè questa quindi Emdar è al tempo stesso il dio dell'asse del mondo quello più elevato e è legato a questo Bifrost questo arcobaleno che invece sa significare allegoricamente i sette diciamo così i sette colori che sono le emanazioni di questa manifestazione originaria e Emdar alla fine appunto durante il Ragnarok combatte Loki perché come Loki è il fuoco che distrugge che causa danno Emdar invece è quel fuoco cosmico che rimette in ordine le cose in questo è molto simile ad Apollo anche a Vishnu per esempio perché sono quelle figure che intervengono durante i cicli cosmici si si questo comunque per dire che Emdar soprattutto però anche altre figure del pantheon norreno si riescono a capire pienamente solo se si mettono in corrispondenza in confronto con figure di altri pantheon indoeuropei un'altra che mi viene in mente così al volo è l'arcangelo pavone dei 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 come si chiamano melektaus melektaus che è considerato l'arcangelo più elevato ecco diciamo così lo spirito cosmico più elevato dopo appunto il dio demiurgico il dio il dio sozioso come dice diade e questo perché il pavone perché il pavone appunto è arcobaleno certo e quindi è quell'arcangelo più in alto di tutti qui altro discorso lucifero che prima era il dio più l'arcangelo più luminoso e poi invece ecco c'è questa duplicità che è stata vista anche in melektaus che appunto gli islamici vedono come una figura satanica luciferina e questo è anche stato è un falso mito in realtà perché melektaus appunto è l'arcangelo più elevato ed ha anche una funzione più simile a quella dell'arcangelo Michele qua faremo un discorso che però va oltre il nostro appuntamento di stasera per quanto sia interessante anche diciamo il ruolo stesso di Sentinella degli Idei di Angelos è un ruolo più acuriale per definizione ma qui appunto potremmo fare Marco proprio una serie di interviste volendo io ringrazio tantissimo Marco per questa entusiasmante conversazione lo ringrazio sempre per la passione e la cura con cui diffonde e anche l'accuratezza alla serietà perché è facile essere entusiasti ma poi bisogna anche avere come lui fa un rigore un'attenzione profonda nel trattare queste materie così solenni elevate ma anche pennemente vive noi appunto vi consigliamo della Libia Rotondi il libro sui dei nordici di cui lui è il curatore il principale autore ma che appunto come abbiamo detto ospita anche altri autori e speriamo presto di persona Marco magari fare un incontro qui volentieri grazie Adriano della nostra conversazione grazie a tutti voi che avete seguito anche grazie a tutte le persone che ci hanno seguito e grazie a Micangio che adesso magicamente fagate